Il mercato del Catania è concentrato tutto sugli esuberi della rosa per rientrare nei parametri imposti dalla Lega. Se da Silva è sempre nel mirino del Parma, più difficile è la posizione di Calile, che ha un ingaggio alto. Pozzebon è sempre richiesto in particolar modo dalla Sicula Leonzio, mentre Russotto al momento, nonostante le offerte, potrebbe essere l'unico a poter rimanere. Mercato in entrata invece legato alla punta dopo la trattativa saltata con Ripa. Il Catania non ha fretta e può attendere anche gli ultimi giorni, anche se l'obiettivo è quello di regalare l'attaccante a Lucarelli il prima possibile. Perez dell'Ascoli è sempre quello che stuzzica di più l'interesse del club rossazzurro, ma le parti sono ancora distanti. Lucarelli intanto continua a ricevere segnali positivi dalle amichevoli, con un gruppo che vuole mettersi in mostra e mette in evidenza anche numeri della categoria superiore, come il gol in acrobazia di Marco Biagianti o i tocchi delicati di Francesco Lodi. È calcio d'estate dove non conta il risultato, ma già con incoraggianti prospettive all'orizzonte. Dal 6 agosto poi si farà sul serio con la Coppa Italia di Lega Pro, che vedrà i rossazzurri esordire contro la Sicula Leonzio al Massimino, in un girone che vede anche la presenza dell'Agragas. Per i gironi del campionato invece occorrerà attendere il 10 agosto, anche per capire la composizione del torneo e il numero di squadre. Ma nella griglia verso la B, il Catani è già nelle primissime file.